ben trovati cari seguaci vi piace il nuovo setup natalizio a marzo giorgio c mi ha chiesto se volevo parlare dei voca gentle voca gente un gruppo molto molto in questo momento rinomato l'anno scorso ha avuto un grandissimo successo con il loro writing un album di diciamo così soft rock pop elettronica di diciamo un enorme successo critico ma anche un buon responso di pubblico è un disco che ha fatto molto parlare per gli appassionati di animal collective flaming lips gruppi così ed evidentemente all'interno di quella scia forse non ha portato particolari novità ma sicuramente diciamo è finito sulla bocca di tutti perché un disco particolarmente raffinato ben prodotto molto ragionato io vedo già la camera che salta dei frame spero che non succeda niente lo so cos'è l'alimentazione che non funziona qual è il problema comunque sia la benda va già fatto parlare di sé nel 2015 con una serie di ep poi nel 2019 è uscito il loro esordio all'epoca si chiamavano voca gentle dopodiché se ne è dato uno diciamo così dei membri della band sono adesso un trio e un trio inglese sono tre ragazzi se non mi sbaglio di londra proprio o di bristol non me lo ricordo in realtà ma è un gruppo sicuramente inglese e da quando sono uniti di trio ha deciso anche di rinomarsi di rinominarsi invoca gente una scelta particolare sicuramente sono rimasti più o meno poi con la stessa dimensione precedente perché loro si auto producono i loro lavori e fra l'altro questo disco è uscito se non mi sbaglio si per la leafy outlook che è una piccola etichetta di simon pegg che aveva già prodotto la band diciamo precedente con la sua altra etichetta più famosa che la utacan records quindi diciamo rimangono in casa i voca gentle rimangono più o meno su quei termini che li hanno trovati già diciamo così interessanti la loro prima uscita è stato un giornalista di moggio fra l'altro a segnalarli e a farli diventare essenzialmente famosi in tutto il mondo e secondo me questo writing questo disco così discusso così amato con dei voti a volte veramente molto alti ho visto da parte insomma della critica in generale se ne è parlato veramente tanto secondo me è un album sì da consigliare ma non così di così eccezionale come si dice a giro ma non perché non abbia elementi diciamo così di una certa eccezionalità ma più che altro perché questi elementi di eccezionalità non sono legati né a un discorso creativo né a un discorso diciamo così di approccio né a un discorso neanche di continuazione di un discorso che chiaramente questi voca gentle riprendono da animal collective e flaming lips tutt'altro in realtà il diciamo così il buono quel che di buone di brillante di eccellente c'è in questo disco è da vedersi nella produzione l'ingegneria del suono nella ricchezza veramente e della stratificazione sonora che ha questo disco ma dopodiché non ci sono molti altri elementi a cui aggrapparsi se non due o tre cose che adesso andiamo a vedere il fatto che la band sia molto di maniera si vede già in uno dei primi pezzi che si chiama castrell in castrell sentiamo tutta l'influenza degli animal collective in quella che è l'elemento diciamo così della ricchezza timbrica e di quelle diciamo interpolazioni di musica world o robe così che è un po etnico non un po però sempre con una radice pop rock americana abbastanza evidente con anche gli arcade fire il risultato finale chiaramente un buon lavoro perché prendono veramente il meglio da queste band lo fanno con una certa intelligenza va detto che quasi in maniera pedisse qua i voca gentle quando prendono qualcosa dalle band di riferimento tendono sempre a prendere gli elementi esterici più evidenti però raramente li caratterizzano in un modo particolarmente insomma non dico innovativo che è una parola grossa per carità e poi spesso e volentieri non ha neanche senso e non è neanche quello che i voca gentle vogliono essere questo è sottinteso però non c'è neanche un tentativo di personalizzazione di questi elementi cioè non è che i voca gentle anche qui non abbiano personalità però francamente quelli che sono gli elementi peculiari della musica chiaramente non diciamo non vengono rielaborati in maniera particolarmente non nuova e poi i loro riferimenti principali sono comunque riferimenti un po vecchi cioè gli arcade fire e gli animal collective sono almeno 6 7 anni che non producono niente di particolarmente interessante sono d'accordo non siamo tutti che sono d'accordo sul fatto che non siamo d'accordo tutti su questo cosa che c'è molta discussione attorno che molti album di animal collective sono considerati ancora di altissimo livello così come molti di arcade fire io non sono di quell'opinione sinceramente secondo me quello che queste band avevano a dire l'hanno detto molto bene loro primi album si sono quasi subito un po sciolti ripetuti e reiterati negli album successivi soprattutto nel momento in cui la scena di riferimento questa diciamo soft pop rock elettronica è un po ceduta al tempo sono arrivate altre cose più interessanti francamente e di queste band è rimasta sì un'influenza abbastanza evidente anche relativamente importante ma sinceramente i dischi che poi sono usciti di tutta questa scena qua non hanno lasciato più nulla quello di nuovo c'è quello che veramente avevano da dirlo hanno detto nei loro primi tre quattro anni di vita molto più interessante per dire necrofauna the garden of eden con wayne coin e the flaming lips proprio che canta quello forse il pezzo migliore di tutto il lotto di questo album un pezzo dove c'è una certa libertà compositiva e dove si vedono effettivamente i muscoli di questa band e dove si nota anche una certa potenzialità che però rimane alla fine piuttosto inespressa perché se in questo pezzo necrofauna abbiamo effettivamente finalmente anche nel tentativo della composizione delle cose un pochino più audaci un po diverse dal solito subito dopo si ritorna più o meno a forme canzoni abbastanza già sentite elaborazioni che animal collective altri gruppi hanno fatto meglio francamente e quindi si torna un po la reiterazione questo è un pezzo secondo me che se volete ascoltare l'album è il pezzo migliore per iniziare ed è anche il pezzo che rappresenta meglio quello che molti critici hanno visto in questo in questi vocagentolo ovvero effettivamente una rielaborazioni di una serie di elementi che erano tipici degli anni dieci ma che finalmente hanno trovato un modo di in vivere interpolarsi nel contemporaneo però sinceramente questo almeno per me accade veramente in questo momento del disco in questi due pezzi fusi dopo di che la cosa mi sembra che si esista ma sia veramente in pillole i pezzi in sé sembrano veramente cose potevano uscire benissimo dieci anni fa magari non prodotte così bene magari non così consapevoli di una serie di elementi va bene però sinceramente ecco se questo album fosse uscito dieci anni fa non non ci sarebbe stato diciamo così nessun tripudio avremmo tutti detto che era un grande album forse i voti alti che ci sono stati avrebbero avuto più senso francamente però non sarebbe stato qualcosa di inaspettato e dieci anni dopo figuriamoci insomma io si prosegue infatti più l'influenza degli ultimi flaming lips diventa evidente infatti anche in questo caso non c'è il tentativo di riprendere magari cose radicali come sono stati i primi in flaming lips sono stati un gruppo particolarmente di rottura dopodiché si sono veramente diciamo così adagiati in un easy listening molto 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 poppettaro che non necessariamente è un male ma nel loro caso comunque denunciava una semplificazione di una serie di processi che l'hava resi interessanti nei primi dischi che dopodiché insomma le ha resi particolarmente pedisse qui e anche in questo caso molto diciamo così prevedibili e banali e qua invece diciamo come dicevo questa seconda parte dell'album c'è questo elemento c'è addirittura un po di brit pop si sente tantissimo l'influenza non tantissimo ma si sente l'influenza di claxons e pezzi come horse latitude ce l'hanno veramente molto chiara questa cosa e poi questi elementi diciamo così si reiterano in maniera un po diversa in alcuni pezzi meglio in alcuni pezzi peggio un pezzo molto carino è a sylving che è un che ricorda molto le rock alternative di anni zero che ricorda qualcosa di new radicals qualcosa di kills e dove c'è sempre in primo piano una bella ricchezza sonora e timbrica molto carino anche se non mi ricordo male respect my eccentricy che è diviso in due parte ma la seconda parte è quella più interessante perché un bellissimo riff di basso molto semplice però molto interessante devo dire che la sezione ritmica di questo disco è la cosa più intrigante cioè per lo più molto semplice molto chiara raramente con guizzi creativi particolari però molto solida una sezione ritmica molto intelligente molto consapevole molto ben scritta devo essere sincero che è veramente il fondamento più intrigante di tutti i pezzi che praticamente tutti i pezzi migliori del disco dopodiché mi sento di consigliarvi magari tv bra che ha un bel ritmo incalzante e per il resto sinceramente si ritornano alle stesse cose che abbiamo detto quindi animal collective ultimi flaming lips tutto molto prevedibile molto insomma particolarmente poco interessante sinceramente ripeto loro hanno una gran bell'attitudine la musica è buona sono molto bravi c'è un trio veramente di alta qualità e da vivo devono essere abbastanza pazzeschi però il disco in sé non se avete se siete appassionati della scena del genere probabilmente vi entusiasmerà ma nel momento in cui magari non siete così attaccati a questa scena o comunque avete un orecchio un pochino più criticone come il mio vi rendete conto che comunque bene o male sono cose che abbiamo già sentito molte volte e più o meno su questi termini non c'è neanche il tentativo di andare verso un post modernismo alla back siamo veramente su comunque su quei lì da loro interessa quel tipo di musica non interessa spaziare oltre che ripeto non è un male assolutamente e i voca gente lo fanno bene lo fanno con grande qualità però sinceramente questo grandissimo entusiasmo l'ho capito fino a un certo punto si parla di una band che ha delle qualità ma non queste grandi qualità fra l'altro c'è un pezzo nel disco terrificante dura per fortuna pochissimi secondi uno dei più brutti strumentali che ho mai sentito ma non mi ricordo come si chiama un attimo ve lo cerco eccolo where we go we're talking you all with us we are taking you all with us è un pezzo ci metto più tempo a dirvelo che a sentirlo dura pochi secondi ma è tipo una zanzara un sintetizzatore una cosa di un insopportabile veramente unico è assolutamente inutile fra l'altro che però denuncia quella che secondo me la problematica della band ovvero hanno una grande consapevolezza tecnica hanno una grande consapevolezza di dove vengono le loro influenze hanno una grande consapevolezza anche all'interno diciamo così la loro alchimia come tre personalità in una band però manca veramente quell'elemento di ingegno di novità che fa sembrare il tutto molto un esercizio di maniera di ottima maniera di grande maniera di maniera fatta bene ragazzi comunque con uno spirito giovanile con una voglia di rompere che c'è in qualche senso in qualche termine in qualche elemento e come vi ripeto necrofauna the garden of hidden è il pezzo che vi consiglio per capire cosa potenzialmente i voca gentle potrebbero dare a questa scena un po più soft dell'ambito pop elettronico però sinceramente secondo me gran parte delle cose che sono state viste in questa band sono ancora in potenziale sono ancora in potenziale ci sono capisco l'entusiasmo però sono ancora tutto in potenziale nel disco non ci sono cioè se ci sono sono piccoli appunti sono piccole pilole sono piccoli momenti interessantissimi brillanti ma piccoli veramente piccoli ora magari vi è suonata un po come una stroncatura questa recensione io alla fine se dovessi dare un voto a writing non gliel'ho dato perché l'anno scorso non davo voti fra l'altro non ho neanche recensito writing nel blog non ho recensito quasi niente l'anno scorso ero indietro sul tutto sarà molto peggio di qualunque altra annata quella dell'anno scorso perché non avevo mai tempo quest'anno penso sarà l'annata migliore insieme di Prudence Party perché ho un pochino più di tempo ritagliato tra mille cose ma se dovessi dargli un voto penso che gli darei un 6 io sono abbastanza basso con i voti me ne rendo conto a volte vorrei esserlo anche di più in realtà ma il 6 a cosa è dovuto perché magari potrebbe sembrare un po diciamo pretestuoso nei confronti magari di un 7 che ho dato a Yard Act o a Black Country New Road cerco di spiegarmi questo cerco di spiegarmelo a me prima che a voi questo 6 diciamo ovvero è un 6 legato al fatto che Voca Gentle mettono delle cose nel piatto ma queste cose secondo me sono veramente legate solo a un grande potenziale inespresso però veramente inespresso ci sono elementi intriganti ci sono interpolazioni fatte bene risultato finale qualcosa di già sentito mille altre volte meglio dieci anni fa oltretutto per cui non vedo una idea dietro e non vedo come nel caso per esempio degli Yard Act comunque una necessità un'urgenza dell'adesso perché per quanto gli Yard Act è anche peggio da un punto di vista diciamo così nell'analisi che ho fatto finora perché loro addirittura comunque riprendono musica degli anni 70-80 e veramente aggiungono pochissimo però c'è un'urgenza del contemporaneo legata sia a una scena di appartenenza che quella vabbè inglese bla 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 sia anche al fatto che i testi e il modo di utilizzare la satira sono molto interconnessi con il nostro contemporaneo per cui bene o male devo dire che negli Yard Act c'è qualcosa che ti fa sentire l'urgenza di questo disco per questa cosa a me personalmente vale il 7 c'è più della sufficienza oltre al compitino sei riuscito anche a darmi qualcosa per aggrapparmi a questo contemporaneo darmi una prospettiva diversa nel caso di Boca Gentle secondo me non ci riesco non è una questione neanche di liriche ma è proprio una questione di approccio alla musica gli manca poco però non credo che il risultato sia così esaltante come è stato detto è un disco interessante è un disco che consiglio sicuramente a tutti quelli che sono appassionati di questa scena che piace anche magari lo slowcore più pop ci sono degli elementi che sono presenti in questo disco che sono molto interessanti è un disco fra l'altro di ragazzi giovani per cui bene o male va ascoltato perché si parla comunque di una band che vuole avere qualcosa da dire però secondo me ancora non ce l'ha ancora non ce l'ha vediamo sicuramente è un gruppo da seguire in generale tutta la Leifi Outlook e quello che sta producendo Simon Pegg negli ultimi anni è da seguire hanno diverse cose interessanti diciamo così nel cappello per cui vediamo come andranno le cose però secondo me writing è ancora un disco un po' immaturo Giorgio spero ti abbia dato motivo di riflessione questa recensione non fosse la cosa più banale che tu abbia mai sentito nella vita noi ci vediamo per un altro video spero di registrare un altro stanotte oppure mai comunque ci sarà presto un altro video di Uber and Sparty cerchiamo di rimanere sul contemporaneo ho finito le richieste però se avete voglia di chiedermi qualcosa sono sempre qui quando ho tempo ovviamente faccio i video e niente dai ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao